Quasi tutto. Combattere il clima è sempre più aspro che si sta creando attorno al mondo del calcio a 360 gradi. Manifestazioni come quella organizzata da Caidos a Castelvolturno per stare accanto al centro Laila fanno venire voglia di vivere lo sport nella maniera ideale. Non è vero, ma ci credo, il titolo dell'evento che si è tenuto alla presenza di autorevoli ospiti non solo del settore del calcio, ma anche dello spettacolo e dell'arte in genere. Ecco le parole dei protagonisti.